Annabeth. Accogliente. Annabeth non avrebbe mai pensato di descrivere in questi termini un luogo del tartaro, ma a parte il fatto che la capanna del gigante era grande come un planetario e fatta di ossa, fango e pelle di dragone, era davvero accogliente. Al centro brillava un falò di pece e ossa, ma il fumo era bianco e inodore e si levava verso il foro in mezzo al soffitto. Il pavimento era coperto di erba secca di palude e tappeti di lana grigia. A un'estremità c'era un enorme letto di pelli di pecora e dragone. All'altra c'erano rastrelliere su cui erano appese erbe da essiccare, pelli trattate e quelle che sembravano strisce di carne secca di dragone. La capanna odorava di stufato, fumo, basilico e timo. L'unica cosa che preoccupava Annabeth era il greggio di pecore stipato in un ovile sul retro. Ripensò alla grotta del ciclope Polifemo, che mangiava indiscriminatamente semidei e pecore. I giganti avevano gli stessi gusti? In parte era tentata di darsi alla fuga, ma Bob aveva già messo persi sul letto del gigante, dove era quasi scomparso sotto la lana e le pelli. Bobbino salto giù dalla sua schiena e si sistemò sulle coperte, facendo le fusa così forte che il letto cominciò a vibrare come se avesse la funzione massaggio incorporata. Damaseno si avvicinò al falò, gettò la carne di dragone in una pentola appesa sul fuoco, che sembrava ricavata dal teschio di un vecchio mostro. Poi prese un cucchiaione e cominciò a girare. Annabeth non voleva diventare un ulteriore ingrediente dello stufato, ma non aveva fatto tutta quella strada per niente. Trasse un respiro profondo e si avvicinò al gigante. Il mio amico sta morendo, puoi curarlo sì o no? E si strozzò la voce dicendo mio amico. Percy era molto più di questo. Neanche mio ragazzo avrebbe reso bene l'idea. Ne avevano passate così tante insieme che ormai Percy era una parte di lei. Una parte a volte fastidiosa, certo, ma senza la quale. Non poteva vivere. Il gigante la guardò dall'alto in basso, con un'espressione malevola sotto le folte sopracciglia rosse. Non era il primo umanoide grosso e spaventoso che Annabeth incontrava, ma Damaseno la turbava in modo diverso. Non sembrava ostile. Irradiava dolore e amarezza, come se non sopportasse che qualcuno lo distogliesse dalla propria sofferenza. Non ho mai sentito parole simili nel tartaro, brontolò il gigante. Amico, promessa. Annabeth incrociò le braccia. E che mi dici di sangue di gorgone? Puoi curarlo o Bob ha sopravvalutato i tuoi talenti? Far arrabbiare un'ammazzadragoni alto sei metri probabilmente non era una strategia molto sensata, ma Percy stava morendo. Annabeth non aveva tempo per la diplomazia. Damaseno la guardò torvo. Metti in dubbio i miei talenti? Una mortale mezza morta si trascina nella mia palude e mette in dubbio i miei talenti? Proprio così, ribatte Annabeth. Il gigante porse il cucchiaione a Bob. Gira tu. Mentre il titano si occupava dello stufato, Damaseno scrutò le rastrelliere e strappò varie foglie e radici che erano lì a seccare. Si infilò una manciata di materiale erbaceo in bocca, lo masticò e lo sputò formando un batuffolo di lana. Una tazza di brodo, ordinò. Bob versò un po' di brodo dello stufato in una zucca vuota e la porse a Damaseno, che vi tuffò la pallina appiccicosa appena masticata e la rigirò con l'indice. Sangue di gorgone, borbottò il gigante. Una bazzecola per i miei talenti. Si portò a passi pesanti di fianco al letto e tirò su Persi con una mano sola. Il gattino annusò il brodo e soffiò, graffiando le lenzuola con le zampe, come se volesse scavare una buca. Vuoi dargli da mangiare quella roba? domandò Annabeth. Damaseno le lanciò un'occhiata torba. Chi è il guaritore qui? Tu? La figlia di Atena tacque e rimase a guardare il gigante che costringeva Persi a bere il brodo. Damaseno lo trattò con estrema gentilezza, sussurrando parole di incoraggiamento che lei non riuscì ad afferrare. Ad ogni sorso Persi riprendeva un po' di colore. Quando finì la tazza di brodo, sbatté le palpebre e aprì gli occhi. Si guardò intorno con un'espressione allucinata, scorse Annabeth e le rivolse un sorriso frastornato. Sto benissimo! Poi strabuzzò gli occhi, ricadde a letto e cominciò a russare. Qualche ora di sonno e sarà come nuovo, dichiarò Damaseno. Annabeth trasse un sospiro di sollievo. Grazie. Damaseno la fissò con aria triste. Oh, non ringraziarmi. Il vostro destino è comunque segnato. E poi voglio essere pagato per i miei servigi. Ad Annabeth si seccò la gola. In che modo vuoi essere pagato? Con una storia. Al gigante scintillarono gli occhi. Ci si annoia nel tartaro. Mi racconterei la tua storia mentre mangiamo. D'accordo? Annabeth si sentì in imbarazzo a raccontare i loro piani al gigante. Eppure Damaseno era molto ospitale, aveva appena salvato Persi. Lo stufato di carne di dragone era squisito, soprattutto in confronto all'acqua di fuoco. La capanna era calda e confortevole. Per la prima volta da quando era sprofondata nel tartaro, Anna bettebbe la sensazione di potersi rilassare. Una bella ironia, considerato che stava cenando con un titano e un gigante. A Damaseno raccontò della propria vita e delle avventure con Persi. Gli spiegò come il semidio aveva incontrato Bob, gli aveva cancellato la memoria nell'ete e lo aveva lasciato alle cure di Ade. Persi stava tentando di fare una cosa buona, disse cercando di rassicurare Bob. Non si aspettava che Ade agisse in modo così subdolo. Ma quella spiegazione non convinceva più neanche lei. Ade si comportava sempre in modo subdolo. Ripensò a quello che avevano detto le Arai. Nico di Angelo era stato l'unica persona ad andare a trovare Bob nel palazzo degli inferi. Nico era uno dei semidei meno estroversi amichevoli che Anna bett conoscesse. Eppure era stato gentile con Bob. Lo aveva convinto che Persi era un amico e così facendo, senza saperlo. Aveva salvato loro la vita. Sarebbe mai riuscita a capire quel ragazzo? Bob lavò la propria ciotola con il detersivo spray. Damaseno fece un gesto circolare con il cucchiaio. Vai avanti con la storia. Annabeth raccontò della loro missione con Largo 2. Quando arrivò a spiegare lo scopo dell'impresa, impedire il risveglio di Gea, esitò. Gea è... è tua madre, giusto? Damaseno raschiò il fondo della ciotola. La sua faccia, piena com'era di vecchi ustioni da veleno, solchi profondi e cicatrici, sembrava la superficie di un asteroide. Sì, e Tartaro è mio padre. Disegnò un ampio cerchio con la mano indicando l'interno della capanna. Come vedi, sono stato una delusione per i miei genitori. Li aspettavano di più da me. Annabeth fece un po' fatica a capacitarsene. Stava cenando con una creatura alta 6 metri, per metà umanoide e per metà lucertola, i cui genitori erano la terra e l'abisso delle tenebre. Era già abbastanza difficile immaginare gli dèi dell'Olimpo come genitori, ma almeno loro somigliavano a esseri umani. Gli antichi dèi primordiali come Gea e Tartaro, invece? Come fa un figlio ad andarsene di casa e rendersi indipendente, quando la sua famiglia abbraccia letteralmente il mondo intero. Perciò non ti importa se combattiamo contro tua madre, chiese Annabeth al gigante. Damazeno sbuffò come un toro. Buona fortuna! Al momento è di mio padre che dovete occuparvi. Con lui che vi contrasta. Non avete nessuna possibilità di sopravvivere. A un tratto Annabeth non aveva più fame. Che ci contrasta come? domandò, posando la ciotola sul pavimento. Bobbino si avvicinò per annusarla. Con tutto quello che c'è qui! Damazeno spezzò un osso di dragone e usò una scheggia come stuzzicadenti. Tutto quello che vedi è il corpo di Tartaro, o perlomeno una sua manifestazione. Lui sa che siete qui. Tenta di ostacolare il vostro cammino a ogni passo. I miei fratelli vi danno la caccia. È incredibile che siate vissuti così a lungo, perfino con l'aiuto di Giapeto. Bobb si accigliò al suono del proprio vero nome. Gli sconfitti ci danno la caccia, è vero. Saranno vicini ormai. Damazeno sputò lo stuzzicadenti. Posso oscurare il vostro percorso per un po'. Abbastanza da farvi riposare. Ho potere in questa palude. Ma alla fine vi prenderanno. I miei amici devono raggiungere le porte della morte, spiegò Bob. È quella l'uscita. Impossibile, mormorò Damazeno. Le porte della morte sono sorvegliatissime. Annabeth si spostò in avanti. Ma tu sai dove sono? Certo. Tutto il Tartaro fluisce verso un unico punto. Il cuore. Le porte della morte sono lì. Ma non ce la farete ad arrivare vivi laggiù solo con l'aiuto di Giapeto. Allora accompagnaci tu, propose Annabeth. Aiutaci. Annabeth trassalì. Sul letto Persi delirava nel sonno. Figlia di Atena, io non sono un vostro amico, replicò il gigante. Ho aiutato i mortali una volta. E vedi bene dove sono finito. Hai aiutato i mortali? Annabeth conosceva tante leggende greche, ma il nome Damazeno non le diceva nulla. Non capisco. È una brutta storia, spiegò Bob. I giganti buoni hanno brutte storie. Damazeno è stato creato per contrastare Ares. Il gigante annui. Come tutti i miei fratelli, sono nato in risposta a un certo dio. Il mio nemico era Ares, ma lui era il dio della guerra. E così, quando sono nato, tu eri il suo opposto, intui Annabeth. Eri pacifico. Pacifico per un gigante, almeno, sospirò Damazeno. Vagavo nei campi della Meonia, nella terra che adesso voi chiamate Turchia. Vadavo al mio greggio e raccoglievo le mie erbe. Era una bella vita, ma non combattevo contro gli dèi. E per questo mia madre e mio padre mi hanno maledetto. Un giorno il dragone meoniano uccise un mio amico pastore. Io gli diedi la caccia e lo ammazzai, infilandogli un albero dritto in gola. Sfruttai il potere della terra per far ricrescere le radici dell'albero, conficcando il dragone nel terreno. Mi assicurai che non terrorizzasse più i mortali. Un gesto che Gea non mi ha mai perdonato. Soltanto perché hai aiutato qualcuno? Esatto. Damazeno sembrava vergognarsi. Gea ha spalancato la terra e io sono stato inghiottito ed esiliato qui nel ventre di mio padre Tartaro, dove si radunano tutte le cose senza valore, tutti i pezzi della creazione che a lui non interessano. Il gigante si strappò un fiore dai capelli e lo fissò con aria assente. Mi lasciano vivere, badare al greggio, raccogliere le erbe, perché io capisca l'inutilità della vita che ho scelto. Ogni giorno, o quello che passa per giorno in questo luogo privo di luce, il dragone meoniano si riforma e mi attacca. Ucciderlo è il mio compito per l'eternità. Annabeth si guardò intorno, tentando di immaginare da quanti secoli Damazeno fosse esiliato in quella capanna a uccidere il dragone, raccoglierne le ossa, la pelle e la carne, sapendo che il giorno dopo lo attendeva un nuovo attacco. Lei riusciva a malapena immaginare di sopravvivere una settimana nel tartaro. Esiliare lì il proprio figlio per l'eternità era di una crudeltà assoluta. Spezza la maledizione, sbottò, vieni via con noi. Damazeno fece una risata amara. Facile a dirsi, sì. Non credi che abbia già provato a lasciare questo posto. È impossibile. Non importa in quale direzione vada, finisco sempre qui. La palude è l'unica cosa che conosco, l'unica destinazione che riesco a immaginare. No, piccola semidea, la maledizione ha vinto. Non ho più nessuna speranza. Nessuna speranza, gli fececo Bob. Deve esserci un modo. Annabeth non sopportava l'espressione dipinta sul volto del gigante. Le ricordava suo padre le poche volte in cui le aveva confessato di amare ancora Athena. Aveva sempre un'aria così triste abbattuta, consapevole di desiderare una cosa impossibile. Bob ha un piano per raggiungere le porte della morte, disse. Ha detto che ci possiamo nascondere in una sorta di foschia della morte. Foschia della morte? Damaseno lanciò un'occhiata turva al titano. Vuoi portarli da Acliss? Bob annui. È l'unico modo. Morirete, commentò il gigante. Nella sofferenza, nelle tenebre. Acliss non si fida né aiuta nessuno. Bob sembrava volesse ribattere, ma strinse forte le labbra e rimase in silenzio. Non c'è un altro modo? Domandò Annabeth. No, rispose Damaseno. La foschia della morte è il piano migliore. Purtroppo, è un piano terribile. Annabeth ebbe la sensazione di trovarsi di nuovo sospesa sopra l'abisso, incapace di tirarsi su, incapace di mantenere la presa, senza più nessuna alternativa possibile. Ma non vale la pena tentare, domandò. Potresti tornare nel mondo dei mortali? Potresti vedere di nuovo la luce? Gli occhi di Damaseno erano come le orbite del teschio del dragone, scuri e vuoti, privi di speranza. Gettò nel fuoco un osso spezzato e si alzò. Un enorme guerriero rosso, vestito di pelli di pecore e di dragone, con erbe e fiori secchi fra i capelli. Annabeth capiva molto bene perché fosse l'anti-Ares. Ares era il dio peggiore di tutti, spavaldo e violento. Damaseno era il gigante migliore di tutti, gentile e disponibile. E proprio per questo era stato condannato a un tormento eterno. Dormi un po', disse il gigante. Vi preparo le provviste per il viaggio. Mi dispiace, ma non posso fare altro. Annabeth avrebbe voluto ribattere, eppure non appena Damaseno ebbe detto dormi, il corpo la tradì, sebbene lei avesse deciso di non addormentarsi mai più nel tartaro. Aveva lo stomaco pieno, il fuoco crepitava dolcemente, il profumo di erbe nell'aria e ricordava le colline intorno al campo mezzosangue, quando i satiri e le naidi raccoglievano piante selvatiche nei pomeriggi di ozio estivo. Magari un sonnellino, mormorò. Bob la sollevò da terra come una bambola di pezza, senza che lei protestasse, e la distese accanto a Percy sul letto del gigante. Annabeth chiuse gli occhi.